Spallata irregolare su un Magnavidic e ce ne vuole per buttare giù il gigantesco difensore serbo. Non ha avuto dubbi Riccardo Salazar. La concentrazione di Jesus Fernandes. Icardi dagli 11 metri. Fisca Salazar. Parte Icardi con il cucchiaio. Batte Jesus Fernandes. Fa 1-1 a 22 dal novantesimo. Freddo, glaciale dal dischetto Icardi. Ha rallentato la rincorsa. Ha toccato morbido sotto il pallone. È finito inesorabilmente in fondo al sacco. 1-1 al California Memorial.